Sulla necessità di semplificare il sistema italiano e di svecchiare le imprese è intervenuto anche Gianni Alemanno, l'abbiamo sentito. Io penso che siano quelle condizioni di contesto che sono essenziali per dare forza al sistema imprenditoriale italiano, a prescindere dai settori. Semplificazione, lotta alla burocrazia, accesso al credito, una giustizia soprattutto civile e efficiente, la lotta alla criminalità sono tutte condizioni che permettono all'impresa di operare su un terreno favorevole. Poi certo dentro questo terreno favorevole ci vogliono anche i progetti, le filiere, i distretti, però se non c'è il terreno favorevole che permette il sviluppo dell'impresa non si va da nessuna parte.